Il coronavirus non ferma a quanto pare i saccheggiatori di auto. Dopo l'expload nei mesi scorsi che aveva visto una raffica di finestrini rotti per depredare le auto in sosta durante la notte e che aveva portato ad un giro di vite da parte delle forze dell'ordine, ora sembra che siano tornati. Quelle che vi mostriamo sono le foto inviatici da un telespettatore di tre auto che nella notte in zona San Bortolo sono state prese di mila da malviventi che dopo aver rotto i finestrini hanno portato via tutto quello che c'era all'interno. Oggetto di danneggiamento anche un'auto in zona piscina e qui però a dare l'allarme è stato un residente che alle 21 aveva notato un soggetto vestito di scuro allontanarsi in bicicletta. Insospettito ha chiamato le volanti che una volta arrivate hanno notato una Golf parcheggiata in strada e il finestrino in frantumi, il cruscotto rovistato.